Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti qua in questa giornata che si presenta splendida. Allora, intanto benvenuti a tutti Enrico Forte. È una bellissima giornata non solo per il tempo ma anche perché oggi si concretizza il progetto. Oggi qua vediamo una miriade di persone pronte a camminare su un sentiero importante, quella che è un'iniziativa molto importante per il nostro territorio, che va a valorizzarlo. Guido Tomatis, lui ha dato un grande sviluppo al sentiero, ha fatto fare un salto di qualità enorme e se siamo qua adesso e siamo arrivati a Mondovie, siamo arrivati a Agnella, siamo arrivati a San Michele, è grazie a lui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.